L'autostima è un argomento centrale nell'esistenza, perché da quanto tu credi in te stesso dipende il tuo livello di riuscita. Che cosa puoi fare per la tua autostima? Che cosa la blocca? E che cosa invece la punta? Voglio passarti alcune indicazioni semplici. E non c'è tutto, trasidiamoci. Per quale motivo l'autostima è bassa e addirittura scende? Se uno di noi vuole affermarsi, perché non ci riesce? Semplice, abbassa il primo uso d'autostima. La domanda corretta dunque non è come avere più autostima. La domanda corretta è come si usa l'autostima, perché come tutte le cose, se non la usi, dimentichi come si utilizza, dimentichi la sua funzione. L'autostima si usa per decidere. Che cosa significa? Significa che quando devi decidere, anziché usare i consigli degli altri, usa la tua opinione. Così comincia a fidarti di te, fidandoti di stimo e stimandoti allonti la tua autostima. Come ti ho detto, devi essere attivo tu, devi usare l'autostima. Per usare l'autostima inizia a decidere. Tutto qua. Anziché aspettare che gli altri ti muovono, prendi tu l'iniziativa. Prendi delle decisioni. Ti insegno a 9 modi pratici per comprare la tua autostima. Innanzitutto decidi, anche se non sei un esprato. Salute. Per il tuo livello tu hai quell'opinione. Quindi da bene, decidi. Abbracciare il tuo recupero e decidi. Appunto perché non sei un esprato e farai degli errori, ma non è quello il problema. Da te hai fatto un errore, lo capisci e lo correggi. Cosa ha detto di fare errori? Tutti fanno errori, non ce le indietro a un numero di errori. Quindi, accetta questo fatto e decidi. Non andare in andare, decidi adesso. Adesso è il momento giusto. Devi prendere la decisione, quindi il momento è adesso. Decidi adesso. Non aspettare il meglio, decidi adesso. Non aspettare la condizione giusta, decidi adesso. Adesso va benissimo, adesso è il momento giusto. Non considerare che cosa manca, decidi. Non farei lento di tutto quello che non c'è. Piuttosto guarda che cos'hai, hai delle risorse, decidi. Apprezzare le tre risorse, quelle che sono, non importa quante sono. Decidi adesso. L'importante è che decidi. Considerati autorizzato e decidi. Hai la proprietà che ti serve per quanto riguarda la tua vita, le tue decisioni o quello che sarà. Sei autorizzato a vivere la tua vita. Quindi, puoi decidere. Considerati autorizzato. E infine, decidi di essere migliore. Decidilo. Decidi di essere una persona che vale di più. Lo decidi e quindi tu vale di più. Da questo momento tu vale di più. Ecco il nuovo luogo pratico per comprare la tua autostima. Grazie. 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 Grazie.